chiediamo il benvenuto a rohan johnson che ci è tornato a trovare che ha scelto tra l'altro per noi questa canzone grazie ciao grazie grazie di insomma avermi ospitato grazie di esistere allora rohan ci sei venuto a trovare questa volta perché è in uscita il tuo nuovo film che è stato presentato al festival del cinema di roma che tra l'altro abbiamo sentito dal presidente dei tassi il prossimo anno si riparla di festa però diciamo tra la festa il festival tu sei riuscito a presentare fino a qui tutto bene una frase che si adatta perfettamente al momento della vita dei protagonisti mi sembra sono cinque ragazzi protagonisti che momento è quello che viene fotografato da fino a qui tutto bene è un momento speciale è il momento quando si studia e si impara e probabilmente non solo sui banchi di scuola ma anche nella vita è quel momento in cui non si sta più con la propria famiglia e quindi con papà e mamma non si è diventati ancora genitori di qualcuno ma si ha una strana famiglia no sì che sono gli amici fondamentalmente ecco questo momento è un momento un po' magico perché sei protetto un po' puoi fare le cavolate migliori è il momento in cui ti innamori quasi sempre della persona sbagliata è il momento dove passi nottate sui libri ma anche feste folli che ti portano fino all'alba a fare poi no le pazzie che ti ricorderai poi quando sarai più maturo e è una lunga tarda adolescenza noi in italia siamo molto bravi a procrastinare questo momento è la maturità e giustamente anche ce la godiamo molto i tuoi protagonisti di questo film sono universitari che sono della zona di pisa studiano a pisa studiano a pisa ma in realtà come la maggior parte degli appartamenti di fuorisede arrivano da tante parti d'italia tra l'altro pisa ha secondo me una caratteristica molto importante che prende tutto il bacino del meridione ci sono tantissimi ragazzi siciliani pugliesi lucani calabresi e però soprattutto per le materie scientifiche prende tantissime persone anche dal nord quindi ci sono anche milanesi bergamaschi è il punto d'incontro è una situazione abbastanza particolare se ci pensi ad esempio a roma credo che arrivi principalmente dal meridione e invece pisa si trova in una di quelle situazioni dove si uniscono due mondi molto diversi credo che poi alla fine se ci si pensa questi appartamenti di fuorisede siano un po dei piccoli laboratori di unità nazionale forse anzi forse gli unici se vogliamo o almeno i più belli non si fa più il servizio militare ma si fanno diciamo le coabitazioni esatto esatto questo film è nato da un documentario da un esperimento diverso giusto sì mi avevano chiamato dall'università di pisa per fare un documentario sull'ateneo e tu hai studiato lì sì io ho studiato lì ho studiato lì anche se ho fatto il primo anno in mezzo a padova da fuorisede per l'appunto poi ho fatto l'erasmus in inghilterra sei perfettamente generazione erasmus infatti quando sono tornato a pisa ho provato a stare con i miei genitori ed è durata sei mesi e poi sono andato in una casa di fuorisede come andrea uno dei protagonisti del film quindi ho vissuto diciamo ho un curriculum di tutto rispetto da in quanto fuorisede anche fuorisede in sede a pisa ho fatto anche ho fatto pure il fuorisede ho fatto il fuorisede in europa in sede e poi ho fatto il fuorisede un po della vera tarda adolescenza un po come i nostri ragazzi perché quando sono venuto a roma a studiare al centro sperimentale ho continuato a fare il fuorisede quindi diciamo l'ho provato e tutto il ventaglio di possibilità le attori come come le hai scelti allora le attori io avevo in mente cioni era l'unico attore che avevo in mente quando scrivevamo la sceneggiatura con ottavia per l'appunto che è un attore che avevo lavoro con cui avevo lavorato e che avevo scoperto per i primi della lista il mio primo film e cioni c'ha una caratteristica fantastica cioè che è un attore con la maiuscola nel senso che ha fatto teatro ha fatto la silvio d'amico quindi una delle scuole più importanti ora è stato scelto da ugo kitty per fare il pinocchio di kitty insomma è un attore teatrale vero e allo stesso tempo c'ha una faccia così da coglione che tu lo guardi e ti fa ridere cioè ha quella comicità intrinseca no che poi è così anche nella vita lui poi probabilmente lui in nome nomen cioè si chiama cioni come il mario cioni del primo benigni quindi e in qualche modo forse secondo me lo ricorda pure e gli altri invece sono venuto a roma ho fatto un casting favilla lo conoscevo già perché aveva fatto qualche particina silvia d'amico e melissa anna bartolini sono state due scoperte meravigliose melissa mi aveva mandato un un video lei aveva fatto varie puntate di the pills dove faceva una volta una tossica un'altra volta una con le hogar molto divertenti tra l'altro lì parlava il romanesco lei di firenze qui fa una del nord invece è molto brava e silvia d'amico l'avevo vista a teatro una volta e quando è venuto a fare il provino mi ha entusiasmato vassallo invece non l'avevo nemmeno provato a contattare perché comunque lui fa augello nel giovane montalbano ha fatto da protagonista fiction sul rai 1 quindi io non è che mi potevo per promettere quel tipo di standard no hotel a 5 stelle se poteva scorda insomma per capirsi e invece è venuto lui a dirmi guarda ho visto che stai facendo un casting ho visto il primo della lista mi fai leggere la sceneggiatura è venuto ha fatto un provino meraviglioso e quindi abbiamo insomma chiuso il cerchio poi con Isabella Ragonese che è stata veramente molto carina a venire a fare questo ruolo piccolo ma molto bello perché è una delle scene che mi piacciono di più del film molto lunga intensa con favilla insomma un cast avercene casti così tutte le volte ecco anche perché come dire sì rispetto al per esempio alla storia della della Ragonese nel della Ragonese nel film il sono momenti anche in cui cioè quegli anni lì sono momenti in cui anche si hanno davanti dei dei sogni che che si pensano irraggiungibili davanti ai quali si ci si ritrae in qualche modo no per cui appunto si guarda a dei modelli possibili da raggiungere convinti che però non si raggiungeranno mai guarda fondamentalmente io credo che la storia appunto di andrea e marta che sono i personaggi interpretati a favilla e dalla Ragonese in realtà non parla secondo me tanto per di cinema cioè la storia lì è che lui c'è il suo gruppetto teatrale di mezzi sfigati che si chiama i poveri illusi e la sua ex sfidanzata invece adesso è diventata un'attrice famosa fondamentalmente fa un film con nanni moretti addirittura e lui quindi si chiede un po rosica e un po ci ha fatto pace con questa cosa ecco io credo che siamo in una società dove questo questa tematica esce fuori sempre cioè basta pensare a facebook no tu guardi facebook e c'è sempre il tuo amico che sta facendo qualcosa di più fico di te cioè che è su una spiaggia col cocktail che è stato intervistato da che va di qui e di là e quindi ognuno si porta e spesso poi ci sono i tuoi o le tue ex no in questo enorme magma di persone con cui confrontarsi ecco credo che tutti ci si rapportino agli altri e oggi sempre di più e quindi noi abbiamo poi scelto magari il cinema il teatro ma in realtà è una cosa credo più universale senti dalla stessa soddisfazione anche scrivere per per la tv guarda io ora appunto mi hanno chiamato a fare due puntate del bar lume ne avevano già girate due con un altro regista poi sono subentrato io e che ricordiamolo è la la serie di sky in cui filippo timi fa il barista ma nello stesso tempo si trova a fare diciamo a risolvere dei casi e si sono tratti a dei romanzi di un giallista anche lui pisano marco malvaldi e quindi è un adattamento comunque però in qualche modo l'idea è stata di scriverlo insomma insieme a ad altri sceneggiatori però insomma anche io e di farlo il più mio possibile ed è stata un'esperienza molto bella e credo che ultimamente la televisione abbia dimostrato appunto prima in america ovviamente ma adesso anche in europa e basta vedere anche l'italia insomma con diverse cose da da boris a gomorra che che c'è un una possibilità di narrazione molto interessante nella tv anzi secondo me un po il futuro sta lì no perché sia un tempo più lungo in fondo appunto una delle prime cose che ci insegniamo dal centro sperimentale è che il film è non è un romanzo è un racconto breve no un film per trarre un film è il racconto breve la novella cioè fra 30 e 50 pagine come sono poi i soggetti noi trattamenti sono 20 50 pagine invece la serie tv può diventare romanzo quindi il personaggio può essere veramente sviluppato in tutte le sue parabole quindi magari magari riuscire a fare altra televisione e speriamo che appunto anche noi in italia si inizi in tutti i campi a iniziare a fare delle delle storie originali belle sempre di più e noi ti aspettiamo appena ti ti viene in mente di di venirci a raccontare qualcosa noi siamo sempre contenti di di prestarti il microfono perché insomma mi sembra che le cose che ci racconti siano divertenti e soprattutto che siano condivisibili da da molte persone e una delle caratteristiche del tuo cinema dei due film che hai fatto è che racconti delle storie corali non c'è mai un unico protagonista sono sempre in tanti e tra quei tanti c'è anche molto del pubblico che poi viene viene a vedere i film credo intanto ci ascoltiamo zen circus mexican requiem sempre scelta per noi da ron johnson due gruppi toscani sono di casa sì di casa però uno appunto che ha dentro i gatti mezzi una malinconia ma allo stesso tempo un'ironia irriverente no sono anche buffi e poi mexican requiem che danno quel tocco rock and roll che il film di quel film aveva bisogno è bravo come come dj come presentatore anche io lo assolterei e magari il resto torneremo ad incontrarlo grazie ancora a ron johnson grazie a voi ciao